E bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui è Parliamo di Roma che vi parla E oggi siamo nella post partita di Roma-Milan finita a poco fa 1-1 per tutte e due squadre che appunto pareggiano e si portano via un punto rimanendo a quota pari E comunque nulla da dire anche perché è stata una partita noiosissima al 100% perché fino al 91esimo, 92esimo, 93esimo Non è successo praticamente nulla a parte Pellegrini che praticamente tira e Abram in poche parole glielo para E lì secondo me entrava assolutamente, ma che Magnana non si inventava una delle sue parate miracolose E nulla da aggiungere anche perché poi è come se fosse finita la partita Poi dopo i 90 minuti inizia un'altra partita durata 7 minuti praticamente Al 93esimo Celic prende una grande palla e Sterza serve Tammy Abram che buca Magnana e segna 1-0 Partita che sembrava finita ma purtroppo Mancini a parer mio fa un grosso errore Ma non gli sto a dire che comunque in questo momento è scarsissimo Anzi piena fiducia in lui perché comunque sta facendo una grande stagione Fa un errore cioè quello di non andarci con il piede ma andarci di testa perché Se magari ci andava col piede la palla finiva in pallo laterale e comunque il Milan secondo me non riusciva a segnare Ci è andato con la testa e Raffaele Au ha preso palla, si è messa sul destro che è al suo piede Crossa al centro, poi lì spinazzola, non tiene Salema Kers che appunto buca Rui Patricio Mette la palla in rete, 1-1, 97esimo minuto, non c'è più nulla da fare perché comunque finisce la partita là E a parer mio secondo me un partita come ho già detto noiosissima è che non è servita a nulla praticamente Sarebbe servita una vittoria per la Roma che avrebbe avuto gli scontri diretti a favore Però comunque insomma serviva a tutte e due la vittoria ma la vittoria non è arrivata per nessuna delle due squadre E nulla, ora testa al Monza, poi all'andata della semifinale con il Bayern Leverkusen E poi comunque non vi sto dire tutte le partite perché in proprio ordine non ve le so dire comunque Vi dico una buona partita ma comunque buono... no buono nulla Vabbè niente, bello